Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La notizia della presunta frequentazione di Perla Vattiero con un giovane calciatore ha scatenato molte indiscrezioni sui social dopo la fine della sua relazione con Mirko Brunetti. Secondo i rumors, la vincitrice dell'ultimo grande fratello avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso nel mondo del calcio. L'esperta di gossip Dejanira Marzano ha condiviso un messaggio ricevuto da una follower che parlava di questa presunta relazione. Non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che Perla stia seguendo e venendo seguita sui social da un calciatore, Cristian Bettoni, classe 2002, che gioca nella squadra Albinoleffe Primavera in Serie C. Al momento né Perla né il calciatore hanno confermato o smentito queste voci, quindi si tratta solo di una ipotesi. Bisognerà aspettare ulteriori sviluppi per capire se c'è del vero in questa storia o se si tratta solo di speculazioni sui social. Restate sintonizzati per scoprire se Perla Varo ha davvero trovato un nuovo amore nel mondo del calcio e se il giovane calciatore Cristian Bettoni è davvero il presunto fortunato. La curiosità e l'attenzione dei fan sono altissime e solo il tempo potrà svelare la verità dietro a questa.